Ma non esagerare, Paola, via, non esagerare. Ormai ho deciso. Mi avete rotto tutti le scatole. Dopotutto non è successo niente, no? Basta. Basta, Franco. Questa volta è veramente finita. Non voglio più vederti. E anche Cristina, bella amica quella. Tutta questa sporcizia morale mi dà fastidio. E ora vattene, perché ho un impegno molto più importante che stare qui con te. Ma sì che me ne vado.